Salve a tutti, sono Silvia Fanti della Fondazione Villa Montesca. Oggi siamo qui per approfondire il modulo di social networking e comunicazione digitale, nello specifico l'unità 2 sulla comunicazione in internet. Per approfondire questo argomento abbiamo chiesto il parere a Francesco Del Siena, esperto di social media marketing, instagrammer per passione e per lavoro, promotore di eventi legati al turismo. I social media più diffusi attualmente, oltre al più blasonato Facebook, che è imprescindibile per una buona politica di social media marketing, sono sicuramente Snapchat e Instagram. Instagram ormai ha superato, insomma, anche a livello di utenti attivi Twitter, e è l'applicazione di foto, video e editing, che ci permette di condividere e di farci conoscere ai nostri follower. Snapchat perché? Perché ormai da un annetto barra 2 è diventata l'app per condividere i propri foto e piccoli video. Infatti si creano dei video temporanei di massimo 10 secondi che vengono visualizzati dall'utente finale, che è una sorta di racconto. Snapchat ultimamente è stata sovrastata anche qui da Instagram, che ricordiamo è stata comprata alcuni anni fa da Facebook, quindi Facebook sta cercando, insomma, di fare un po' man bassa degli altri social. E con Instagram Stories ha creato una sorta di Snapchat, quindi sfrutta gli utenti che un utente ha per fare quasi la stessa cosa, per fare dei piccoli e istantanei video che vengono cancellati. Quindi io consiglio per quest'anno e per gli anni futuri di puntare su questi due social network che sono importanti per comunicare le proprie passioni e i propri interessi. I social network che consiglio di usare per il settore creativo e culturale sono sicuramente Instagram e Facebook. Facebook perché comunque non si può prescindere dall'averlo e qui consiglio l'utilizzo non come utente ma come pagina, anche se si è creativi e praticamente si usa lo stesso nome, consiglio di creare una pagina perché ci permette di geocalizzare, di targettizzare il proprio pubblico e capire quello che sono interessati. Instagram perché? Perché è l'app della fotografia, l'app per artisti, l'app per fotografi o per semplici appassionati, che ci permette andando a raccontare i backstage con video, foto, tutto quello che insomma un artista può cercare e può raccontare. Quindi può essere anche sempre una sorta di diario fotografico che si comunica con il resto della rete e ci mette in contatto con tante realtà.